Puoi tu mettere alle rotine, ma non finisci con mezza coppola. Buonasera a tutti. Allora, io mi occupo di Atlantide, questa sera parleremo di questo mistero. Dicevo, è un mistero appunto perché non si è trovato ancora, non si sono trovati ancora i resti di questa secretà, perché non ci sono dei resti archeologici, abbiamo soltanto il testo di Platone e altre citazioni come Polibio, Erodoto, Plinio e il vento, naturalistico, ma non abbiamo noi il riscontro oggettivo, non abbiamo stato, non abbiamo monumenti, non abbiamo nulla. Quindi, per poter organizzare una ricerca, innanzitutto una ricerca sul campo, bisogna innanzitutto vedere, prima di fare una missione a livello proprio archeologico, di vedere esattamente dove si trovasse questa isola. L'unico testo al quale ho bisogno rifatto è l'originale greco, la versione teca originale di Platone, i dialoghi sono quelli del Timeo e del Tizia. Il Timeo è un dialogo filosofico, naturalistico, e abbiamo anche delle citazioni che nulla ha fatto a fare con Natale, nel Timeo. Il Tizia invece si debita tutto a Natale, però è poco, e finisce troppo. Ecco, ora andiamo con la prima diapositiva, vediamo se possiamo... Che età era? Ecco, allora, un attimo, era delle... Aspetta, esattamente, ecco, vediamo se lo trovo. Ecco qua, nel 428 è nato al 348 a.C., quindi possiamo dire più o meno 2.400 anni fa. e, come appunto vediamo, il filosofo ci parla di Atlantide in due dialoghi, il Tizia e il Timeo. In questi due dialoghi c'è il racconto di Atlantide, come lo ricorda Tizia, il filosofo Tizia, a sua volta del racconto di suo nonno, Tizia il Vecchio. Quindi, quando all'età di 10 anni Tizia giovane ascolta il nonno, che ne avevano mani addirittura, e c'è un racconto di seconda mano, ma diventa di terza mano, perché in realtà Tizia il Vecchio lo rompe da Solone, lo statista Solone, il quale a sua volta, quindi già, abbiamo la terza e la quarta mano, Mosè, che è dal sacerdotio, dal sacerdotio di Tizia di Sais, della città di Sais, anche questa è un'altra città misteriosa, comunque, viene citata. Sais si trova nel detto del Milo, quindi prossimo al lato mediterraneo. Questa è la strada di Platone, che vedete, vediamo dove il mouse, lo devo tenere vicino. Allora, questa è la strada di Platone, questa è la propola di Atene, possiamo vedere un'immagine. ecco, questo è il mondo al tempo dei Greci, il mondo al tempo dei Greci, che era più o meno riconoscibile, solo che abbiamo, ecco, più o meno l'Italia e la Grecia erano di dimensioni assolutamente comparabili, come vedete Greta, Cipro, la Turchia, la Siaminoe, vediamo l'Europa, la Libia, la Libia sarebbe la parte, veniva chiamata Libia la parte costiera dell'Africa. l'Africa era deformata, non si conosceva tutta la parte territoriale, non so se voi sapete che erano le vecchie cartine, al di sotto della linea costiera, veniva detto che ne ha scritto it, sulle leones, cioè, lì erano i servizi, sono le leone, oltre non ci possiamo andare, proprio perché non è possibile fare una spedizione. Ecco, questa è la parte, possiamo spegnere un attimo, spegniamo tutto da qui. L'India, come vedete, era conosciuta anche quella un po' deformata, non era perfettamente delineata, per Asia si intendeva tutto il quanto la Bannonia, la Russia, l'Europa era delineata così, non si conoscevano nemmeno le isole, l'Islanda, l'Irlanda, non erano considerate, non erano mignote, non che non fossero proprio note, però non erano oggetto di collette, non erano conosciute l'Irlanda, non erano conosciute la Groenlanda, per esempio, così. Questa è una cosa più importante, vediamo le colore debole poste, il problema di queste colore debole, perché nessuno osava andare oltre? Perché tutti i colori, diciamo, avevano delle navi, erano delle navi non adatte alla navi che sono oceanica, o si perdevano, oppure la prima tempesta che arrivava, e quindi non facevano tutto, a questo punto c'erano delle leggende, si diceva che oltre con la debole poi il mare finiva, quindi era una pazzia andare ottima. Vediamo se abbiamo saltato delle diapositive prima, io non vorrei, ecco, ecco, io la bibliografia abbiamo visto, infatti prima, dei libri che ho potuto consultare, sono il Temeo, editorio della terza, opere complete, poi tutte le opere, questo qua, della Newton, edizione economica, poi le storie di erologo, la geografia di Strapone e la naturale storia di Pena Vecchio, ma però, ecco, questi altri autori non citano la storia intera, semplicemente fanno dei brevi riferimenti ad Atlantide, quindi non ci sono molte informazioni, le informazioni sono soprattutto sul testo di Platone, dove sono appunto raccontate queste storie, non come favole, cioè, Platone fa una premessa, dice, queste qua non sono favole, ma sono una storia vera che è stata raccontata con questo dal sacerdote di Sais e questo supporto storico gli serviva a Platone per sostenere la grandezza della Crescia Antigna, cioè, il popolo prego, Platone, voleva far capire con questi specchi, che era stato valoroso anche in passato, perché se l'era vista con questo popolo degli Atlantide e aveva combattuto perché voleva conquistare tutto il mondo da loro conosciuto e addirittura lo dirà, allora vediamo, lo vedremo dopo, ecco, lo vedremo dopo questo problema della guerra tra Atlantide e la coalizione capeggiata dei Greci per proteggere l'Europa, addirittura dice che, dice Platone che la Grecia riuscì non solo a impedire questa invasione, ma addirittura a liberare anche i popoli che erano sottomessi, qui vediamo, ecco, procediamo a fronte perché sono andato a scaletta e ci siamo, dove si trovano le colonne d'Empore? Ecco, il primo dubbio mio è stato, ma siamo sicuri che le colonne d'Empore si trovano lì, si trovano lì perché appare chiaro, insomma, dal racconto che si trovassero corrispondenti allo stretto di Cipirtè, che sappiamo tutti, tra la Spagna e il Marocco, perché c'è un passo che recita esattamente così, allora infatti il mare era navigato e davanti a quell'imboccatura che, come dite, voi chiamate colonne d'Empore, aveva un isola e quest'isola era più grande della Ligia e dell'Asia, esse insieme. Attenzione, queste due teme che vengono paragonate, non sono l'Asia, come dice tutta l'Asia, sono semplicemente riferibili alla parte di dominio greco, cioè, domino greco che era appunto in Turchia, nell'Udina Turchia, ma era soltanto la parte costiera, quella che io indico qui con il mouse, e poi la parte costiera che vengono, quindi in realtà questo non si parlava di tutta la Ligia come la vediamo ora, e nemmeno di tutta l'Asia, soltanto una parte dell'Asia di Norte. Allora, più o meno ci riempiamo per la dimensione di Ligia. Ecco, poi un'altra, ecco, andiamo avanti, ci dice ancora, la Platone, ci dice ancora che in questa isola di Atleta, grande e meravigliosa, venne su un dominio di totali re e regnavano in tutta l'isola, ed in molte altre isole e parti del continente, ed in qua dallo stretto teniva l'impegno sopra la Ligia fino all'Egitto e sopra l'Europa fino alla Terrenia. Questa frase, questa frase contiene, contiene un'informazione importante, dice al di qua dello stretto, cioè tutta la parte dell'Europa, al di qua dello stretto fino alla Terrenia, la Terrenia sarebbero le isole, le isole, la Sardegna, cioè la Sardegna non è sbagliato a dire che non avesse nulla a che fare con Atleta, per Terrenia sarebbe andata la Toscana, le Curie, ecco, l'Italia, possiamo dire, avevano dominio sull'Italia, quindi non è un errore che la Sardegna non avesse nulla a che fare con Atleta, è un errore dire che l'isola di Atleta fosse quella, perché? Perché non è sprofondata, non era, non aveva quelle caratteristiche che adesso vedremo, e non aveva, non aveva le caratteristiche appunto di trovarsi al di là dello stretto, e quindi non ci siamo, era un dominio, quello dice, teneva la tradizione di dominio anche qua dello stretto, ma c'erano anche delle domini al di là dello stretto, qui dice, qui parla il sacerdote di Sais che dice, sono grandi le vostre imprese gigantini, ecco diciamo così, e sono scritte qui su una stella, ormai perduta, il sacerdote di Sais mostra solo una stella, una stella di terra in cui c'è la storia di Atleta, e risalente questa stella ha 8 mila anni prima di questo colore, si edige dal testo questo, non è un mistero. Allora, dicono infatti le scritture, quando grande fu quella potenza che la vostra città sconfisse, la quale invadeva tutta l'Europa in base allo stesso tempo, procedendo dal che fuori dell'Oceano Atlantico, lo ribadisce di nuovo, procedendo dal che fuori, non è che noi consideriamo che Atlantico era nel Mediterraneo, era Greta, Cipro, San Torino, perché il Paolo dice, con una violenza estrema, non so, ci fa prospettare che ci fossero conoscenze dell'America, infatti dice, partendo da quella isola, era possibile raggiungere le altre isole per coloro che allora convivano le traversate, e che traversate potevano essere? Le traversate oceaniche, cioè dirlo delle persone che 9 mila anni fa raggiungevano Atlantico e poi andavano oltre e raggiungevano lì, quali sono queste isole? Dalle isole dovrebbero essere le isole Cuba, Antille, le piccole e grandi Antille, le isole spagnole, cioè l'America centrale, le arciderie dell'America centrale, tanto è vero che dice, e dalle isole a tutto il continente opposto che si trovano intorno a quel vero mare, lo chiamo il vero mare dell'Atlantico, non l'angusto porto, come dice dopo, l'angusto porto del Mediterraneo, piccolino, infatti tutto quanto è compreso dei limiti dell'imboccatura di cui ho parlato appare come un porto caratterizzato da una stretta entrata. Quell'altro mare invece puoi effettivamente chiamarlo mare, e io nel testo ho detto Okeanos, o Pelatus, e non Talassa, Talassa è per noi traducibile come mare, generico, ma Pelatus e Okeanos in greco voglio dire che Pelaco, quindi con una distesa in mezzo, non c'era direttamente. Qui purtroppo la traduzione è quella che volevo cambiarla prima di venire qua, ma sarebbe giusto dire questo, quell'altro mare invece che puoi effettivamente chiamarlo Oceano e quella terra che interamente lo circonda, puoi veramente essere chiusamente chiamarlo la continente. Cioè sta facendo, purtroppo è una distinzione letterale, cioè Platone o il Sagittorio di Sardegno non erano dei geografi, perché dava una distinzione un po' approssimativa, però chiaro, per chi vuol capire è chiaro, solo che non potevano dare delle coordinate a ovest, a est, a sud, dice fuori da queste poche, da questo stretto, diciamo, c'era un'isola, poi altre isole, poi il continente che circonda quel vero mare. Accidenti. Allora, qual è quel continente, faccio domandino, qual è quel continente che circonda l'Oceano Atlantico dall'altra parte? Il continente dell'Italia. Quello sì che puoi chiamarlo giustamente continente. Quindi, si poteva mai riferire a un isoletto come Greta? E quale sarebbe questo continente che è grande sul mondo dell'Oceano e non è la Libia, ovviamente, come avevo detto prima? La Libia era un dominio. Era un dominio, non era Atlantico. Non era l'Africa, tutto il grande continente dell'Atlantico. Andiamo avanti. Ecco, questo ci dico moltissimo, non so, fermarmi su questo, perché questo è stato l'origine dell'indagine e il punto fisso da cui sono partito, per altre indagini geologiche, poi vedremo in seguito. L'isola di Atlantico, la quale, come dicevo, era a quel tempo più grande della Libia dell'Asia, mentre adesso sommessa dai terremoti, è una merma, un valgo insolontante, che impedisce il passo a coloro che innamitano da qui per raggiungere il mare aperto, per cui il viaggio non va oltre. Allora, a quel tempo, parliamo di 2500 anni fa, evidentemente, il sagittore di Sais, leggendo questa stela, qui c'è un'altra interpretazione che ho fatto io. La stela parlava da 8000 anni, cioè quel fango di cui parla la stela non c'era più ai tempi di 2000 anni fa o oggi, non c'è più. La navigazione dell'isola, della platina dell'azzola, è una navigazione sicura, però se la stela parla di un periodo risalente a 8000 anni prima di quello, di quel colloquio, ancora non c'era più la profondità, c'era ancora l'isola, era solo l'isola, ma era pochissima, era una navigazione insicura, quindi sprofondò o sprofondò di più, più lentamente, ci fu prima un fenomeno di sprofondamento violento, dopodiché con lo tsunami con il maramoto, dopodiché poi le glaciazoni del livello del maramoto, poi ecco, però questo segno, questo indizio, non dobbiamo cercarlo adesso, cioè adesso oppure nell'epoca di Platone, non c'era più quella verba, perché è la stella che parla, la stella c'ha 8000 anni, la distrazia è stata 8500 anni fa, come vedremo, quindi, scusa, 8500 anni prima del dialogo, se non ci vediamo al dialogo, quando io parlo di 8000 anni, non sono a partire da oggi, ci dobbiamo aggiungere 2500 anni, quella famosa data di 10500, che torna anche qua, quella famosa data che viene intanto diplomata da Encopro, da altri studiuti, da Pugalo, da altri studiose che, insomma, che sentiamo poi in televisione, quella famosa data di 10500, si ricava poi da questa somma degli 8500 più 8500 e arriviamo a quella data fatica, perché, ecco, questa è un'altra cosa importante, c'era una regione con del fango, e qui ti dice che era pericoloso, cioè impedisce il passo a chi vuole continuare, quindi questi famosi attraversatori che dove eravamo prima, arrivati a un certo punto, dopo quella disgrazia, dopo quel terremoto, poi ci sono messi nei terremoti, terremoti, in un'isola, salvevo i terremoti, i maremoti non se ne possono fare a me, ecco, si vengono accompagnati, te lo vedete, ecco, le terre occitate erano le terre che si, questa è la prima domanda, se questa mitica terra si trovava dove io più o meno metto il mouse qua, qui, adesso quella vedete, adesso questa è una cartina normale dove non c'è niente, c'è il mare, c'è, malapena si vedono qua le isole, ma nemmeno qua sono qua, e questo io volevo mettere questa depositiva appunto per far capire che al di fuori dello stretto qua di Gipitela abbiamo questo cielo e qua abbiamo il vero continente, infatti qua dice, partendo da quella era possibile raggiungere altre isole per coloro che allora compivano attraversate dalle isole, che sarebbero queste, vedete qua, abbiamo Cuba, la Repubblicato Penegana, Haiti, le piccole e grandi antilarco dell'antile, quindi da questo punto qua, dove si procedeva oltre, c'è l'isola e poi c'è il contenente. Il triangolo delle Bermude. Ecco, bravo, bravo, il triangolo delle Bermude è un altro mistero che io ho voluto connettere a quello dell'antile, per un altro motivo, adesso vedremo, non possiamo poi, ne dirò fra poco, ne dirò fra poco. Ecco, abbiamo quindi visto che Platone si riferiva all'antile dell'antile, non sappiamo come i sagittori di Sars ebbe queste informazioni, dell'est e sulla stella, non sappiamo che stesse quella stella come mai poteva avere conoscenza di un'isola al centro dell'Atlantico e oltre quest'isola questo non venendo, questo è il portello. Però abbiamo un altro indizio che ci fa capire che si trovava nell'Oceano Atlantico e esattamente a quella dell'antile che dico io. E già qui vediamo un pochino meglio, vedete qua, questa, dove c'è il mouse, vedete questa, questa, che già comincia a capire, si comincia a capire, ma non vedremo neanche l'Oceano. Perché c'è un'altra, un'altra, un'altra narrazione, c'è un'altra narrazione, sempre nel, 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 nel testo di Platone, che dice, narrando, Platone, narrando l'origine della stippe di Atlantico, ci dice che poseidoni, un po' si nomi a tutti, a tutti i re, e prima al più grande che il re, dal quale tutta l'isola in mare, detto Atlantico, vedete, non lo ripeto, ebbe il nome, perché quello che allora arrivò per primo fu chiamato Atlantico, cioè, sta dicendo appunto questo, cioè lo ripetisce tre volte, quattro volte, lo ripetono tutti, non sta ancora nel Mediterraneo, del mare Ione, del mare Geo, lo ripetono, perché, eh, dice qua, eh, quindi dice che lo ceva il ben nome dal primo regno Atlantico, quindi c'è un, 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 un referimento preciso. Poi dice il suo gemello, cioè l'ha quattro figlio, nato dopo di lui, a cui era toccata l'estrema parte dell'isola, adesso le colonne dentro, un altro preferimento giocato, perché quest'isola, del quattro gravidiamo, c'era una parte che era antistante delle colonne dentro, e presso quella regione che ora, in quel tratto, è detta Gadirina, ebbe il nome greco di Omeo, che nella loro lingua si dice Gatero, e dal suo nome potrebbe nominarsi quella contata, la Gadirina, la Gadirina, prende quel nome, perché si trovava di fronte alle, alle coste qua del Diatlantico, dove c'era il regno del Gatero, che nella loro lingua era Omeo, ma nella lingua, eh, ecco, nella lingua griglia era Omeo, ma nella, nella lingua originale era, in qualche modo suonava come Gatero, il Gatero, ecco, noi non possiamo sapere com'era il nome di quella lingua, il nome dei re in quella lingua, però possiamo dire che, e quella si chiama la regione della Gadirina, ora si chiama, oggi si chiama Marocco, quella è la Gadirina, abbiamo altri indizi, abbiamo una città che si chiama Gadirina, ecco qua, vedete qua, la faccio vedere, abbiamo Gadirina, l'ho fatto vedere più grande, abbiamo Gadice, Gadice ha la stessa, ha la stessa radice di Gadirina, è soltanto un po' diverso il nome, ma abbiamo, abbiamo proprio un riferimento che ha, perché tutta quella regione era Gadirina, e quindi la regione di Adlantico, dove legnava il re Gatero, o Eumeo, c'è questa, purtroppo c'è questa differenza, lo spiego subito perché, perché i nomi barbari, cioè stranieri di questi re, venivano tradotti in Egiziano, poi da Egiziano in Greco, Purtroppo abbiamo dovuto fare un lavoro doppio, abbiamo dovuto tradurre questi nomi degli Adlantichi in Egizio, poi dall'Egizio come sono meglio gli ingredienti, è successo il Fumaceco, comunque, lui ci assicura, dice che praticamente noi abbiamo, che la regione della Galilea si chiama così perché si trova di fronte al regno di Galero e qui l'altro riferimento ancora, che è che siamo a prendere, a questo punto Platone fornisce delle indicazioni più precise, si cita la regione galinica, la quale avrebbe preso il nome da uno dei dici primi generi di Arlagrile, la regione di Galeria ha un nome più preciso e dalle zone note dell'antichità, dai tempi di erodico, dal V secolo a.C. narrando i miti del popolo degli Scini, il padre della storia erodico ci racconta che Gerion abitava fuori dal pomo, i greci dicono che abitasse l'isola erizia, quella posta di fronte a Gadara, sull'oceano fuori dalle colombe regole, quindi un altro riferimento abbiamo scoperto, non solo, nei tempi di reciti di Strapone del I secolo, riporta che dice Arco, Eradosto e Nebolito, come nel fronte a maggior parte di Dio ci affermavano, che le colonne nere e greco di Ercole, le stesse cose, sono prossime allo stretto di Gades, lo stretto di Gipilterra che noi chiamiamo oggi Gipilterra che deriva dall'arabo che vediamo.. Che optimistico... che fortuna il burnout… che incisca Perchè listo, proprio in quello stretto o della montagna, decisionsa della montagna, ora, quel discorso lì che ci fa appunto Eradosto e Polibio e ci parla delle colonne prossime allo nella sua naturale storia. Ci presento l'interessante quale è la situazione molto identica dell'Udito Latina. Infatti ci dice, all'estremità dell'Abbettica, a 25 litri dall'impoppo dello Stretto, c'è l'isola d'Italice. Luca come scrive Polizio, non dice, ecco, di nuovo un altro riferimento a questo stretto. Quindi lo stretto di Cipiltera non è lo stretto, come alcuni dicono, di Sicilia, perché alcuni non fa tanto che spostare queste cose per far riquadrare la propria isola. se Giofrau, che è uno studioso che lo conosco, su internet, per livello intellettuale, non perché l'abbiamo conosciuto di persona, scommessando, vuole praticamente avvocare a sé Atlantica. Io che cosa dovrei fare? Dovrei parlare di Atlantica dicendo che è la Sicilia, ma parlando persone, la Sicilia non c'entra per niente con l'Atlantica. Forse, forse, forse fu dominata, fu un dominio lontano, come abbiamo detto, il dominio dell'Atlantica, il mare resiste ad esse, dappertutto nelle Americhe e addirittura nell'Europa fino all'Egitto. Quindi, probabilmente, era in un dominio, ma non c'entra per niente con quelle cose. poi, un'altra, un'altra, dal lato che riguarda la spagna, circa i cento passi, se poi un'altra isola, lungo un milio, un alcol milio, una piccola isoletta, se vedete nell'Atlante, purtroppo oggi quest'isola è sommessa, perché, a mano a mano, l'Eberro a Marino si è aumentato dopo la presenzione. Però, però, quest'isoletto oggi si vede con le prespezioni del sol, cioè abbiamo quest'isoletto che è proprio posta di fronte al Cadice, che quella città, si chiamava anche Tartesso, la mitica Tartesso, che era una città conosciuta per l'arte della nazione di metallo, ma era Cadice, ecco, sono altri nomi che venivano appioppati a quelle città. Timeo afferma, l'isola più grande è detta da questi ultimi voti in USA, ma la nostra gente la chiamava Tartesso, eccola qua. e i cartaginesi di Galiere, a ritare il nostro Galiere, che poi la parola che significa Siete in Punico, cioè questa città di Galiere era chiamata appunto così perché Galiere vuol dire Siete, probabilmente è una città di Antisep, non lo so, è una città dove c'erano molti su Spunico, non lo sappiamo. Aveva il nome di Eritrea perché gli individui di abitanti della città di Felicia di Tiro, cioè iniziali fondatori, si diceva fosse l'origine del Mar Rosso eritea, eritro significa rosso, non crede. Quest'altro è un nome, certi autori credono che Galiere, quello a cui Ercole avrebbe portato via le mani, ma anche suppongono che l'isola fosse un'altra all'acqua della Lusitana, cioè Lusitana si vede della Spagna, della penisola indietro, e battizzato con lo stesso nome c'è l'isola di quella parte. Quello che risulta evidente è che a questo punto i toponi di Cadara, Cadese, Cadere, sono chiaramente legati fino al quinto secolo avanti visto, alla penisola in Eritrea. Ecco io l'altra Cadere che l'ho fatto vedere non è esattamente quella di cui parla questo testo, cioè l'Agadire, l'Agadire che l'ho fatto vedere è un'altra Cadere che conferma il toponimo arabo, perchè di nuovo ha quella radice cartaginese Cadere, i cartaginesi come sapete che avevano indomino tutta l'Africa non occidentale, quindi lo d'Algeria, Marocco, Tunisia, quello era il loro regno. Quindi quella Cadere, poi c'è una gemella Cadere sotto, ecco se guardate anche la cosiddetta prima quella lì, ecco questa che qui continuano a parlare di Cadere come Gades, Gadara che poi sarebbe oggi Cadiz, o Cadiz in spagnolo, Cadice in italiano. Ora abbiamo, perdo un po' il filo purtroppo perché parlo moltissimo, abbiamo altre cose, in questo senso quando è ricordata una donna può che farci concludere che l'Isola dei Tati si truppasse in prossimità dello spettro di Cipri e che le sue imposte fossero quelle che loro ce le guardano, questa è una prova ormai assoluta. Altre interpretazioni vanno appena al di là del filosofo greco, cioè altre interpretazioni sono anche fuori di quello che voi voleva dire e non sono, anche pure accettate, no non le possiamo accettate. Ok, ma in quale periodo risale la storia di Andalpite? Ecco, abbiamo visto il problema giocato e non abbiamo risolto e lì c'è poco da fare, ci abbiamo messo anche erodolo, politico e non per esempio, ma adesso vogliamo parlare del periodo di queste cose. E qua nel contrario ci parlo di 9.000, Enachis Kiles, se lo traduco in italiano, ma in greco è tutto scritto completamente diverso, Enachis vuol dire 9, Kiles vuol dire 1.000 e quindi 9.000 e quello c'è poco da fare. E ci dice che in questa età inizia la guerra tra quelli che sono al di qua per le colonne d'Egettole e il popolo ha detto anche che sono avanti e va, un'altra conferma. Non c'è nessun problema, Soloro, ma parlerò per te e per la vostra città e soprattutto in onore all'Atena, Adena, adesso io lo aggiungo io, che è inizia la vostra Atene e questa città, Salles, e le animuò e le animuò per prima la vostra a 1.000 anni fa, ricevendo il vostro seme da Gene Efesco e in seguito di questa città qui. Quindi qui vuole prima dire, ve lo dico in termini più semplici, che Atene e Salles, dice il Sargentoni, erano legate da parentesi, da origini comuni, cioè tutte e due erano in qualche modo, come posso dire, protette da Atene, un po' come se fossero affidate ad Atene, che una volta si pensava che gli Dei si fossero spartiti, la terra in varie parti, allora c'era un dio che si sceglieva la parte della terra, allora Atene gli chiedero una precia che sta parte dell'Egitto, Cos'erano? Ecco, perché erano la stessa vita? Probabilmente no, erano quindi nello stesso divinità, così la leggete di Dio, cioè in qualche modo erano connesse alle gambe di sangue a tutti Dio, proprio. Così, così dice, lo potete vedere lì, lo dice veramente, protettore dell'ospitalia. Non è detto che abbiano la stessa vita, proprio che fossero come per esempio Nettuno o Poseidone, fu sfidato l'Atlante, tanto è vero che Atlante fu figlio e figlio di uno dei dieci gemelli di Poseidone fu Atlante, e poi abbiamo visto l'altro gemello Gadiro, ovvero meno. Quindi, per quanto riguarda l'ordinamento di queste nostre città, delle sacre scritture, è scritto il numero di 8000 anni. Ecco, perché c'è 8000 anni? Perché i fatti si riferiscono a 8000 anni fa, i fatti che qui leggi nelle salle scritture, queste sono le salle scritture, non la Bibbia, per carità, le salle scritture sono le scritture su questa stelle che mostra il sacerdo di San Sassonore. Ora, quindi riguardo ai cittadini vissuti 9000 anni fa, dimostrerò brevemente le leggi e l'impresa più bella che si può dire, un'altra volta con maggiore precisione, te lo spiegherò tutte con maggiore tranquillità, una dopo l'altra di lavandole dagli scritti stessi. Cioè, ora, il sacerdo ti dice, ora io ti racconto che cosa è successo 9000 anni fa. Eccolo. Allora, quanti abitano sui monti e in luoghi elevati e secchi muoiono più facilmente di quanti abitano per il sito che il mare? E il libro, che ci è salvatore con le altre cose, anche in quel caso ci salva da quella calamità, mediante l'inondazione. quando è messo i tempi, purificando la terra con l'acqua, la sollevano, i pefocchi e i pastori che sono sui monti si salvano, mentre coloro che abitano nelle vostre città vengono una sorta di... dei dubbi del mare. Questa frase è importante perché dice, raccontava appunto le disgrazie che i catapismi che sono avvenuti in questi 8000 anni e dice che quando avvengono queste disgrazie, chi abita nelle alture e la disgrazie viene da mare, si sa. Se invece il catapismo viene col fuoco, per esempio la caduta di un meteorito, lo dirà poi Zento questa caduta di un meteorito, che è una cosa incredibile perché nel testo di Platone il sacerdote egizio spiega a suo lavoro, quello che i crici considerano una favoletta, c'è il fatto di avere fetonte perduto il carro del sole, il fatto cadere il sole sulla terra, guidando il carro, il carro di Apollo, il carro del sole, in realtà nasconde una verità, cioè che a volte i corpi che ordinano intorno alla terra perdono lavoro regolarità nell'orbita e cadono sulla terra, cioè questa è una cosa incredibile, lo dice qua Platone, che il sacerdote di Sassi spiegava al greco il vero significato del mito greco del carro non esiste, ma c'è fetonte con carro che cade, non è quello, in realtà c'è questa favola perché c'è un'altra realtà dietro che è proprio la verità dei corpi celesti e comunque lo capisce che, in questo scritto non c'è, in questo scritto che volevo appunto farvi vedere c'è proprio questa concessione catastrofistica allo stesso tempo questa ripossessione di salvarsi se si abita su luoghi elevati se viene da un mare, la distanza. Ok, e tutte quante le cose che sono accadute presso di voi o qui o in un altro luogo di cui abbiamo sentito la notizia, se ne sia qualcuna che sia onorevole o grande, che sia distinta per qualche altra regione, sono state scritte qui nei tempi che vengono conservate, poi dice, in Egitto noi abbiamo la memoria di tutto, abbiamo degli elenchi che risalgono anche gli elenchi prima, poi invece, come dire, voi qua lo dirà dopo, questa scritta qua, poi siete giovani, voi greci, siete giovani, non vi ricordate di queste cose perché un dirubbio, una disgrazia, quindi vi cancellano tutti, quelli che rimangono a diventire una cosa prima, che infatti dice, ecco, ma non appena presso di voi e presso altri popoli viene diventato uso della scrittura di tutto ciò che è sempre nella città, ecco che di nuovo nel solito spazio di armi quando una malattia giunge il terribile di lui dal cielo e di voi lascia coloro che sono gli esperti di lettere, ecco, un'altra cosa importante, chi è in esperto di lettere, chi non conosce la storia, appena viene ucciso da una città, non avrebbe lasciato scritto niente sulla pietra, che cosa succede? Dimentica tutto, quindi la storia parte da zero, ecco l'importanza di conoscere queste cose, perché se oggi, oggi non avvenisse la disgrazia, morisse il 90% delle persone, se quel 10% ha quelle conoscenze, le diamanti, se non le ha perché non le ha scritte, perché le ha persa, perché non se le ricorda, ecco l'importanza della cultura, perché molte persone mi dicono, ma che te frega queste cose qua, e io gli rispondo a quanto il fatto che, se noi siamo esseri umani e abbiamo la capacità di capire le cose, vuol dire che ci sarà un motivo, vuol dire che c'è un'utilità, e l'utilità è appunto quello di connettere fatti diversi, nozioni diverse, connettere con l'uso che un documento è un curatore, poi c'è un curatore, se è il curatore, se è il cemento ma non hai mattoni, non se ne fa nulla a questo nascimento, per far caso ci vuole certi termini, cioè ci vuole intelligenza e conoscenza, insieme si vuole identificare il tempo della conoscenza, nel momento in cui noi abbiamo o solo la conoscenza senza intelligenza, o solo l'intelligenza senza conoscenza, non se fa nulla, non se ne fa nulla, qui che cosa ci dice? Che le disgrazie, che ci ha parlato prima che mi resta di lungo, che ricorrono periodicamente, questa è un'altra frase che è un po' seria, perché uno che dice una cosa del genere dice che ricorrono periodicamente, vuol dire che la memoria ci ha potuto fare una statistica, ha detto che ci sono 4 disgrazie, una intervallata dall'altra da più o meno lo stesso numero di anni, è bellissimo, nel solito, addirittura c'è il solito spazio piano, come il giorno prima l'alto, ma c'è tutto questo incredibile, è come una malattia di fungione terribile di lungo del cielo, benissimo, e di voi, ti lascia colore questo rispetto di lettere di arte, sicché diventate di nuovo dal principio come i giovani, non sapendo nulla né di ciò che accade qui, né di ciò che accade adesso di voi, e gli appello in termini antichi. Dunque queste vostre generologie, di ora che hai ho risposto solo, sono proprio diverse dalle parole dei bambini, perché? Perché il primo luogo che ricordate non sono dei luoghi della terra, mentre in residenza ne sono state molti, cioè l'esiziano dice a prego, io sicuro te lo ricordi, noi ci ricordiamo tutta la serie, perché abbiamo le scritte, voi le scritte non le avete, o le avete perdute, o non le avete nemmeno pure scritte, o perché sono morti quelli esperti di lettere, ecco, mentre avete pensato di morti, e in secondo luogo non sapete che la nostra regione, adesso di voi ha avuto origine a scritte più onorevole e più nobile dell'uomo, dai quali provenite tutti e tutta la città che adesso è posta, essendo allora rimasto un piccolo segno, ma voi non parlate, perché sapessi che per molte generazioni morirono appunti, per non conoscere le rette, cioè, tutti questi fatti, tutti questi fatti erano una fonte, sì, cioè, non ha potenti, dirai in altri passi, che giusto e giusto, manca a fare una posta, morirono appunti che invece avete uno spettino di lettere, quindi che rimani i bifolti, se ricorda prima che avevamo detto, si sentono solo i bifolti sui pastori, i pastori sui monti, i pastori che sono letterali, sono poveri invece, quindi che cosa succede? Quando arriva la disgrazia, io andrò uno, fanno incidere quei, e quindi i disegnati, noi disegnati che per nostra fortuna non abbiamo avuto quei dinubi, perché se le avessero avute, andrò avrebbero avuto queste andesie, e abbiamo scritto su queste stile tutta la storia di prima di mettere i bifolti, noi ci diciamo, voi siete dei poveri bambini, perché guardate, uno solo quando ve ne furono molti, questo è terribile, cioè, ve ne furono molti, quasi quasi stiamo curando i due altri, i soliti, al solito tempo, questa è una cosa incredibile. Adesso, ragazzi, andiamo nel centro, diciamo, ragazzi, questo è simpaticamente, andiamo proprio, ecco, qui adesso vediamo la cartina fatta bene, come ho detto, prima non la vediamo bene, vedete qua, io mi siedo qua insieme a voi, vedete qua, la Spagna, le coste nord-africane, e quella roba lì che mando a farlo apposta, e viene fuori dalla prespezione geologica e recenti, che poi sono state messe su Google, su Google, che una cosa un po' no, di quattrocent'anni fa, per meno, i ragazzi sono andati qui su Google, più o meno da... E adesso, questo quadrato qui, vedete quelle maccholineggiane? Sì. Quelle sono le parti che vengono fuori, che ancora sono le isole e zone, e sono dieci isole, poi se ne vedono tre, però, grande, ma sono chiesi, con un grande scuolo. Ora, quella profondità che le mi cadeva, è più o meno, va da 800 a 1200 metri. E che si potrebbe prendere? Composti e no. Composti, perché già 800 metri, già è fuori, cioè non è, non ci vanno gli altri nomi giù. Sì, ci sono. E' un grosso problema, sbobrema. Poi, che cosa ti voglio dire? Le altre parti dell'oceano, queste qua, allora, qui abbiamo detto intorno a 1800-1200, dove c'è il mouse che adesso è qua, per esempio, qua siamo a 5500-6000. Qui proprio, qui, in armata. Allora, qui, cioè, voi ti immaginate, qui intorno a 5500-6000, qua intorno a 3500, qui 2000-1000, perché qua sono delle alcune. Qui ci sono delle isole. Ora, io vi dico una cosa, se quella roba, se quella roba riquadrata, che manda a farlo a posto, è una cosa, c'ha le stesse identiche dimensioni, uguale, che diceva Platone, cioè, ora lo vedremo meglio, ecco, questa è un'altra cartina che invece farebbe vedere la conformazione dell'oceano, se venisse a mandare la profondazione dell'oceano, cioè, se invece di essere 6.000 metri fosse, che avessimo tolto 2.000 metri, allora comincerebbero ad aprire fuori quelle cose lì. Cioè, questa è una cartina, una fantasia, cioè, ammettiamo che adesso noi togliamo un po' d'acqua, no? Abbassiamo, le prime cose che vengono sono la dorsale ferriciatica e questa roba qua. e, probabilmente, la città è di Atlantida, ecco qua, Atlantida, qua a Zora si sentono, è a Zora, perfetto. Questa è un'altra fantasia, c'è un'altra possibile Atlantida, ma vedremo che non è esattamente lo stesso, come l'avete visto qui. Questa è molto grande, quella è più piccolina, abbiamo visto, è più ristretta. Ecco, la c'era dove è la Zora, quella macchina, vedete come si vede bene? Adesso non l'ho detto, aspettate, anche qui sarà data. Ecco, adesso guardate qui, ecco le decise. Allora, le passiamo a contare insieme. Allora, mi metto giù, vedete. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, questa qua piccolina che non si vede, e alza, alza due o tre minuti su quello che conosce, tipo una donna. Però che una decima è insomma. Ecco, questa qui che ho fatto vedere prima, ecco la qua, vediamo. Questa piccola, ma cos'è? Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Insomma, guardate la conformazione. Non ci trovano messe a caso queste isole. Perché, adesso qua, purtroppo io vedevo se vedo un'altra parte, non posso, scusate, non si parla. Vediamo insieme. Vedete, vedete dove si trovano queste isole? Sono poste su dei rilievi, soprattutto se vedete nel gruppo centrale, dei rilievi che sono, che sono in direzione nord-ovest e sud-est. c'è delle pieghe monduose, in direzione, quindi poi la parte proprio che è più alta esce fuori dal mare. Anche, anche qui, vedete, c'è questa catena, vedete, vedete proprio come si vede che è la combinazione di uno e l'altro. Quindi abbiamo tre catene di crisi di tubolatura, qui abbiamo il contenamento della prima, e qui abbiamo un'altra, insomma, c'è, fa capire che quella monta lì era più alta. Vedete poi anche la forma di questa pianura, che ormai è proprio sommessa, vedete, è ormai tutta sotto il... Vedete anche le fratture che si sono create, perché queste fratture, queste faglie, queste righe, vedete queste cose qua, non sono un artefatto, sono proprio le spaccature che ci sono. Quella, quelle lì sono lì, ormai sprofondate, è al centro di tre placche tettoriche. La placca, lo vedremo dopo adesso, un'altra disinunzione. La placca americana, la placca europea e l'africana. Si chiama punto tribo ed è un punto istabile. Non solo il punto tribo, ma c'è anche la dorsale. Vedete che sta qua, questo corrugamento qua. Questo qui, che non ci ho messo in giustizia nulla, si chiama distale mediooceanica. Vedremo che cosa è la dorsale. Però vedete che la dorsale spacca, spacca dal cipolla con due. Ma la continuità, la continuità è quella in direzione quanto ho messo su destra. Vediamo un'altra depositiva. Eccolo qua. I primi dati che saltano fuori. Mi sono messo la faccola di giro. Grande appassionante, ma davanti. Mi sono preso il testo di una dorsale e ho cominciato. Vediamoci quanti sono, quanti dati. Lui ci dice 2.000 strati per 3.000 strati. Lo stadio attico, vedete sotto, è 178 metri. Moltiplicando 178 per 3.000, vi vengono in chilometri 533. E manca a farlo apposta. Io ho preso con un punto la distanza 533. E mi è venuto proprio bene sto cattolo. Vedete, qui e qui sono 533 chilometri. Ma non è finito. 355. Mi spunto fuori quel 355. Che sono 2.000 stati attici. Sempre lo stesso, l'unità di misura, ovviamente. L'unità di misura greca. Cioè, erano praticamente uno stadio dove facevano le competizioni sportive. Siccome era 178 metri, era una lunghezza stabilita, gli davano sotto uno stadio, c'è uno stadio, ecco. E gli aprile con misura, come noi chiamiamo gli attori. Noi chiamiamo gli incomedi che l'avrò mostrato l'unità di me. Queste misure sono sicure, non è un dubbio, non è un'interpretazione. Quelle sono le medie. E da quel punto a quel punto, esattamente sono 355 le volte. Ma, sarà un passo. Ma io mi sono detto, c'è questa corrispondenza. Ma io non prendo queste foto. Queste foto, signora, le posso guardare tutte. Ma è un mistero. Basta andare su un pub, basta scaricare il programma Google. È un programma, credibilmente non si fa da nulla. Va da una gratis. Non ha passato questa, ma funziona bene così. Va da una gratis. Si scarica Google, si va su quell'isola, si zooma, si avvicina a quella. E vengono fuori queste cose. Dopodiché io salvo le immagini al computer. Vengono delle immagini che sono spettacoliche. No, no, no. C'è la funzione proprio del tasto. E' un programmino che gestisce delle carte geografiche. Vedendo non le carte. E' facilissimo. Io non ho fatto uno. Io ho semplicemente... Esplorato. Siccome non c'ho pegunia, non c'ho denaro, non c'ho soldi. Allora, non posso io organizzare una spedizione e-gerografica. Allora, per vedere quello che c'è sotto il mare. Tutto quello che è blu è sotto il mare. Tutto quello che è giallo è sopra il mare. Allora io... Beh... C'è questo che è a buon prezzo. Cioè, voglio dire che cosa posso fare. Ecco, ritorniamo al posto. Qui è un'altra visione ancora migliore, ancora più grandita di queste isole. Ecco qua. Le isole orientali sono quelle... Vedete qua? Sono piccole. Queste delle piccole. Questa è il lato porto, si chiama. Questa è San Miguel. Questa non c'è quanto nome, non lo trovate qui. Questa è Teseira, Graziosa, Sao Jorge, Pico e Faiano. Queste sono Corvo e Flores. Ricordatevi... Si, i nomi sono nomi spagnoli, perché furono i primi in lingua spagnola a trovare... Fu uno dei primi navigatori, ma dei nomi spagnoli. Ricordatevi quest'isola di Corvo. Perché l'isola di Corvo fu trovato un remetto. Ecco, dicevo, non ci sono remetti, però qualcosa fu trovato. Nell'isola di Corvo, i strutturatori portoghesi, che nel 1749, non ricordo l'anno esatto, l'ha trovato, trovato un cavallo di un re, di un uomo, su un cavallo che indicava col dito il locust. Cioè, immaginate, ora c'è una fotografia che fa vedere, fa ricostruire più o meno come poteva essere questa strada. Perché la strada fu percuta, si è rotta durante il trasporto, e fu buttata via. Cioè, una volta non si aveva la concezione che, ecco, per esempio, la conoscenza importante degli archeologi che prendono stato, le mettevano in una... Oggi facciamo così. Prendono stato e mettono, la circondano con del gesso, dei panni con del gesso, quindi per evitare i scossoni, la mettono dei cassoni. Cioè, tutta un'operazione ben precisa. Nel 1700 si pensò bene di trascinare le pizze sulla nave, sulla nave piglia uno scossone. Su perduta, probabilmente parte dalla Tarzan, non si trovò nulla. Però, chi l'ha trovata... Poi c'è una diapositiva bellissima su questo. Per adesso voglio superare l'anticipazione. Questo è il panorama di uno dei bambini, che io purtroppo non sono potuto e non ho preso delle foto. Vedete questo panorama? Vedete questa terra nera? Con questi monti altissimi e altre zone, quelle cittadini, no? Non sono bassi. C'è una un'isola che ha una moda che si chiama Pico Alto, che la Belese dovrebbe essere 2200 metri. Che forte? Cioè, un po' come la Grecia. Terremoti giornali. Perché c'hanno quella roba lì, i Lucanieri. Sono... Fanno anche paura. Perché sono dei mondi molto allungati, molto particolari. Vedete qua? Queste rocce Lucanieri. Vedete anche questi colori così... Zolfo. Che volete, ovviamente. Poi, questa è una foto stupenda. Sono dei roccioli a picco sul mare. Dice Platone che le rocce erano, guardate un po', di colore rosso, rilo e giallo erano di colori più comuni. Rocce a picco sul mare. E i colori, diciamo, più comuni erano... Ora, c'è più chiaro di così non si può. C'è la roccia a picco... Sono tutte basalti. Tutte rocce... Tipo Lipa, Strombo, Leone, tipo così. E qui abbiamo un altro paesaggio con sempre rocce Lucanieri. E qua sopra abbiamo... Ecco l'animogeologo, del genere del geologo. Questa parte sopra... Vedete che è un altro colore. Quella parte sopra lì. Mentre questa è lera. Perché quella è una strada calcare, marino. Marino sollevata, a qualche modo. Mentre sotto c'è la parte Lucanieri. Questo vorrebbe far capire che in qualche modo sono dei movimenti irrotesime. Perché c'è il momento in cui... A Tlantide sprofondò. Ma c'è qualche momento in cui siamo... Per cui tutte quelle strade là... Insomma, vedete che... Il geologo lo vede subito. Vedete che gli strade lì non ci sono. So. E lì ci sono. E dal colore non vediamo. Quindi quelle rocce vulcaniche nere, senza strade. E poi se ti dice lei... Perché è rimasto sotto il mare. Poi si è alzato. Parla caro, c'è un po' da fare. Non è che... Non è che... Ecco, questa è un altro... Purtroppo una foto non molto bella, però... Si fa capire. Vedete? Queste sferone rocciose di rocce vulcani. Questo nero, ma no. Ecco, questa è un'altra bellezza di foto. Questa è buona. Vedete? Ecco, le rocce a picco sul mare. La scena atlantica, proprio qua. E' spettacolare per questo. I turisti ci vanno proprio per vedere questa roba qua. E queste sono tutte delle formazioni di basalto. Ecco, i geologi che fanno anche di questo. Il basalto, quando tocca l'acqua, l'eruzione vulcana, in qualche modo si raffredda abbastanza velocemente e poi si spacca, si fattura secondo delle linee ben precise. Non so se vi ricordate l'interruzione formale spesso. I famosi tilasti dei giganti. sono delle spaccature esagonate. Tanto precise da far pensare che qualcuno le abbia spattate. In realtà in basalto c'è proprio questa grande di fessurasse con quella roba qua. Basalto. Basalto, quindi vulcani, quindi terremoti. Ma questo non è un mistero. Ma questi possono essere... Questi possono essere... Possono essere di attuanti di queste cose. Allora, dice Platone, sempre dice Platone, non dico io. Dice Platone che l'isola era famosa per i terremoti. Cioè c'erano sempre terremoti. Piero a vulcani, eruzione, la basilica. E ripeto, parlava di monti bellissimi. Cioè questa pianura quadrangolare era circondata al nord da monti spettacoli. Dice i più belli del mondo, aggiunge Platone, dice. Sono dei monti spettacoli che fermavano i venti del nord. Tant'è vero comunque. Vedete tante postive le città che si vedeva bene? C'era questa... Questa parte è contosa al nord e poi la pianura a sud. Perché... Vi faccio vedere... Ecco, quella diapositiva prima... Ecco, quella... Ecco, questa è qui. Vedete, le montagne sono al nord che se sono oggi rilevate, prima dovevano essere ancora più elevate, e poi la pianura a sud. Vedete qua questa, questa, questa... Quindi tutto corrisponde. Andiamo avanti con lo cemento. Abbiamo visto queste cose là. Ecco, un altro... Questo è il piccolo acco, che ancora è una furcana attiva. Ogni tanto è rotta. Queste le famose rocce più profumate, quelli boschi, vegetazione... Dall'altro anno il botanico vi dice anche un'altra cosa. Il botanico, altre zone, vi dice un'altra cosa, che un letterato non può dire. Le isole e zone hanno molte piante che sono solo di quelle isole. Questo indizio fa capire che quell'isola, ha avuto il tempo di sviluppare specie nuove. E questo non si può verificare con quelle piccole isole, ma si può giustificare con queste isole maggiore. Non so. Si può anche far vedere che quell'isola rimase tutto isolata, non ebbe contatti. Non ci furono contatti con altre isole. Nella storia evolutiva, il popolo del Tordedievo connesse l'isola, con altre regioni. Quello di quel livello botanico, le altre, le famiglie riscontrate lì, non sono famiglie comuni che si trovano nelle coste americane o nelle coste europee. Quindi, botanicamente, quello è un regno per conto suo. Come le isole, per esempio, le isole del Capo Vente, per esempio, hanno un'altra isola, un'altra flora particolare per conto loro. Quindi, è un regno floristico a parte. E questa è la descrizione che ci fa della sola città, che si trova in mezzo alla pianura. Dietro ci sono una montagna. Vedete com'era come era? Avevamo delle cerchie di mare e di terra. Quindi, dove c'è questo rumore del mare, poi c'era un ingresso, un ingresso che faceva comunicare la città con l'oceano. C'erano dei giardini, dei tempi, dei ginnasi, delle scuole, delle case, dove c'era la gente. Poi c'erano queste gente e alla fine c'era il Tempio di Cleito e Poseidone. Perché Poseidone c'era una moda che si chiamava Cleito o Clito. Cleitos è il nome del tempo, ma noi lo traduciamo come Clito. E lì c'era il Tempio, il famoso Tempio del Ragnolo, che era il primo Tempio di Oro e Doricalco. Che tavolo è Doricalco? Doricalco è una lega metallica. Molte ci hanno studiato su questo. Ancora c'è molto mistero, ma pare che sia rame e mezzinco. Praticamente che sia un po'. Alcuni dicono bronzo, e siamo lì perché bronzo c'è rame e stagno e rame e zinco. Io dico che è bronzo. Mi tolgo un pochino, mi metto un po' in questa filone qua. L'ho regalto, che fosse tutto ricoperto da questa... Questi tempi, il prezzo di argento, lì c'era anche una statua di Poseidone con le cento mereti. Le mereti che cos'hanno? delle minfe che cavalcavano i del film. Immaginate questa statua di Poseidone sul cavallo, a cavallo, ieri al sacro, ieri al sacro, il cavallo. Ricordate? La lotta fra Poseidone e Atena. Atena diede in dono ai Crici l'olivo. Poseidone diede in dono per corrompere, perché diede in dono il cavallo. gli Atenesi scelsero l'olivo. Quindi, ecco l'unicizia tra Atena e il Nerone. Che cosa successe? Che Poseidone ti regalò il cavallo agli altri dei. Vabbè, non lo volete voi, io mi prendo, ecco, la suddivisione dell'Atena fra gli dei. Atena, l'Atena della conoscenza. E venne in Grecia, tanto è vero che i greci erano noti per avere la conoscenza come loro caratteristiche. Qui, ecco, qui abbiamo un'altra visione fantastica di come dovesse essere il porto e queste cerchie di mare, fino ad arrivare a quella parte leggezza del territorio. E qui è la Stato, come ho detto prima, ecco, una visione fantastica, non è di quello della Stato, è una foto di come poteva essere questa Stato. Sembra che nel 1749 i marinai di una nave inglese abbiano trovato sull'isola di Colpo la più a notte occidentale, ricordate la Colpo che era la più a occidente del gruppo dell'isola, appena trova monete d'oro, d'argento, di rami, di cronzo, delle città di tiro e sidone. E chi delle porta le monete di tiro e sidone fino all'isola, per l'isola, soprattutto all'occidentale? Un ingrediente, questo è un racconto del 1749. risalente quindi al IV secolo a.C. Quindi nel IV secolo a.C. c'erano dei commerci, c'erano delle comunicazioni fra questi due volte. I chiesi dite che i cartaginesi dovevano essere attrito un insediamento per permanente sull'isola, per forza. Un mistero. La statua è questa, è venuta dai portoghesi, sempre sull'isola di Colpo, che alcuni dicono che si è stata costruita in bronzo, altri nella piedra. Non si vanno capito, perché... Ma se capiscono, come dice questo? Quella statua si è perduta. Infatti dice, raffigurando un misterioso personaggio col braccio della cora, ora vi spiego di. E un'istrizione, trattando il non-presidente, sotto l'impedistato di questa statua. C'era una scritta che nessuno riuscì a capire. C'era una lingua che non aveva né greco, né arabo, né latino, niente, ma era una scritta incontenziale. In una lingua che nessuno ha spiegato, il re del portogallo, nel XVI secolo, ordinò di rimuovereci dalla porta a casella. E gli operai la rubano. E gli operai, che voleva fare? Gli operai sono operai, che devono fare? Non erano arteologi, quindi, non erano intellettuali, non potevano prendere questa statua con le dovute. sottraendola all'indagine. Se la ruba, la buttava, non ce la poteva. Questa è semplicemente una foto che ho messo io per fare un pochino. Quando gli esplodori portoghesi in cerca di non vedere giù, la prima volta, nella zona, notarono che il braccio levato dal cavaliere indicava l'Ovest. La direzione del nuovo mondo ne aveva, per forza, indicava l'Ovest e pare che gli abitanti chiamassero quella statua catesse. Parola inesistente in portoghese o spagnolo, poi giusto io anche in greco, non esiste nulla, ma che, per una strana coincidenza linguistica, somica la parola che avete letto dell'impero Inca, dell'impero Inca, del sudanetico, del sudanetico, significa da quella parte ho mai di lì. Cioè, l'unica parola che ci sono lì è catì, catì, che traducono in catesi, dicevano catesi, queste attività, e quindi pare che voglia, voglia dire quella statua che trovi, che sa che trovi, che trovi la mente. ora, vediamo l'etimologia della parola atlantica. Atle, nella mitologia asteca, era il dio dell'acqua, aridare con l'acqua, con le isole, infatti, questo termine compare anche alcuni nomi e topologi composti dalla lingua asteca, con il significato generico di acqua, un esempio, xopoato, che significa acqua amara, cioccolata, xopoato, diventò cioccolato, vedete un'altra cosa. poi, astra, che significa vicino all'acqua, oppure il nome di un isolo, oppure namui atle, che significa quattro volte acqua, nome del sistema di misurazione del tempo. Probabilmente si usano delle pressibili, quindi, quattro acle vuol dire quattro svuotamenti della pressione d'acqua. Bellissimo. Ma ritorno, di nuovo, atle. i sostenitori della realtà storica del mito teatratico, sono spinte addirittura ipotizzate un nesso tra questo termine ed il nome del mitico continente Perluto. Infatti, la Sveti, secondo queste teorie, peraltro, non so sfragata, però da prova, questo lo sognatino, sarebbero discendenti di quei sopravvissuti al cataclismo, che riuscivano a forcizzare sulle coste d'America centrale. Questo spiegherebbe il livello verde e mentalizzato dentro della conoscenza. C'è una leggenda e io ho potuto verificare con un amico mio di abito del Messico e dice che nel loro scuolo come noi andiamo in Italia al mito di Romolo e Preno loro c'hanno il mito di Atle che bene, dal mare, si salvò un popolo venuto da disgrazi diciamo del mezzo all'oceano e insegnò l'abitoltura insegnò a quei popoli ora io dico c'è una leggenda però c'è dei visitatori che insegnavano a questi popoli a Portevala Terra e venivano dopo una disgrazia da un isono che venivano lì venivano da quella parte lì e mi fanno riflettere. Un'altra consiglia che te la dico io e qui non c'è sul deposito ma dico io lei mi disse che veramente Atlanta l'uomo vuol dire l'uomo l'uomo dove ci viviamo non ho capito queste cose ma ha detto che però vuol dire anche per loro il luogo probabilmente da dove la nuvole bianche o le stupe del mare bianche non ho capito più oltre ha detto questo probabilmente perché il ricordo di quella disgrazi di quello tsunami che avvenne e lo vedremo che cosa successe probabilmente il proprio il biancone del mare o le nuvole ti accade così quindi lui l'uomo mi disse io guarda che noi abbiamo strumento di questo povero c'era questo bianche io lo registro ma lo facciamo scopo cioè non è una cosa come noi facciamo Romolo il re non c'erano questa questa cosa e e e questa cosa abbiamo visto la posizione giocabile qui vanno la locia adesso quindi abbiamo visto che questa è una figura così un pochino scherzosa non è così grande però abbiamo visto quindi la montagna la pianura e la città le cause della città e qua la doga locia le cause c'era il domocamino come lo so Platone dice che l'isola fu sommessa dal mare nello spazio di un solo giorno e di una sola notte con terremoti maremoti e deruzione vulcana quindi delle cose e poi purtroppo ci sono deduati sulla televisione ogni anno c'era scelta un amore quindi è stato il lastito no? il lastito come so allora secondo la leggenda di Atlantide nel bianco che d'artizia le ultime parole che rimassero troppe dice che ciò che si è indignato per il livello di cattivella di di non lo so di proprio di barbare per per essersi corrotti perché prima erano saggi poi questo dice la come lo so questo pezzo qua è un pezzo che volevo dirvi prima ma non lo dico adesso però molte e in molti modi sono avvenuti a ferrare le pedie dell'uomo le più grandi per mezzo del fuoco dell'acqua per moltissimi altri peggioni altre minori quella storia che ha presso di voi si racconta parecchio il dio del solo dopo aver aggiornato il trato del padre poiché non era capace di guidarlo lungo la strada del padre incendio tutto quello che c'era sulla terra e tutto e poi dice lui stesso fu ucciso colpito da un fulmine viene raccontato sotto forma di mito ma in realtà si tratta questo è il testo del Timeno questo lo trovate nelle prime righe del Timeno di Platone questo po' e legge e si legge ma in realtà si tratta della deviazione dei corpi celesti che girano la terra e che dedeficano in lunghi tempi di tempo la distruzione mediante una grande quantifoto di tutto ciò che è sulla terra cioè nel 2400 avanti un sacerdote che diceva l'ho letto sulla stele di 8000 anni fa l'ha detto quindi 8000 anni fa sapevano che ogni tanto una cosa città struttura si dice voi Dreci pensate che il carro di Fedonte dice una favoletta per l'ignorante per noi invece che siamo egizziati che la sapevano lunga voi sapete una favoletta che non sapevano la storia vera è favoloso cioè ora purtroppo erico e pepe diceva ma questo è il dialogo purtroppo si interrompe e trova cioè c'è Giombe che si riunisce con gli altri teci che dobbiamo fare di stisola e poi e disse due punti e segretà quello che Giove Iovis Yahweh attenzione attenzione c'è un'altra teoria che dice che quello che Iovis Giove in realtà è una deformazione della parola Yahweh o Yahweh come non sappiamo noi la interazione questo è favoloso questo è un'altra sono altri misteri che si accamano però con questa cosa non riuscite a vedere altre cose sono favolose andiamo avanti eccola qua eccola qui il punto tricolo vediamo qua guardate qua e qua e qua e qua c'è tutto vi ricordate la posizione? eccola qua se voi vedete questa roba qua questo 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 mondo dove c'è il maestro vedete vedete quelle tre placche che si fanno giù la placca europea guardate ma questo rispone ve lo ricordate rispone nella conferenza di quella quella linea gialla ma ditta ditta verso rispone manca a farlo apposta poi abbiamo la placca africana l'europea e la pericana che si incontra una propria luna quello lì quella povera isola è al centro di tre continenti tre zolle continentali cioè la zolla continentale è il continente più più il mare la parte di mare che c'è vedete non so se capite cioè noi andiamo l'Africa e poi la parte di Cielo attorno all'Africa quella è la zolla continentale quindi la zolla non è l'Africa ma è l'Africa con il pezzo di mare che è con base con gli altri pezzi di mare vedete la sopra che ci sono qui ecco ecco queste sono un pochino più tecniche noi invece abbiamo ecco e di nuovo qua abbiamo la Caridian plate la Caridian plate e l'Eurasian plate cioè le 3 plate quello che ho fatto è qua però manca manca la frattura che qua la persona di scuola ma mi pare che questa ci va pure la persona di scuola e poi ci andiamo a questo diciamo punto tribo perché ecco un altro punto tribo per esempio è questo la 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 placca di Nazca la placca del pacifico e la placca e la placca di Anticocos un altro punto tribo è questo la Sud America l'Africa e l'Austria la tettonica è che qua abbiamo questa questa è la carta oceanografica ehm ufficiale che è presente la posizione di implante dovrebbe essere qua vedete è fatta male vedete che non è proprio volutamente non è messa bene e ancora non è una buona come cerchia oceanografica adesso con Google le vediamo bene ma anche questa è la presa la 30 a 40 anni fa ma è quello ufficiale vedete qua dove c'è esattamente qua vedete che c'è qua un rilievo però questo rilievo qui non è fatto bene come l'altro non si capisce non è non è non è chiaro quella cosa vedete questa cosa qua esattamente qui e qui abbiamo invece il Pacifico vedete c'è qualcosa di mostruoso ovviamente quello che c'è sotto al mare e il bar è quello che c'è sulla terra vedete quindi una di montagne fosse sono delle fosse queste qua sono decitivamente la famosa fosse delle Miami si 10 il Pacifico è circa un 55 però poi si sceglie a quelle di schino a quelle cosa dovrebbe essere questo mi pare questo non poterlo oh questa è come si è formata quella quella spaccatura che sarebbe la famosa dorsale medioecianica cioè da sotto spunta il mamma che corrode vedete spinge fa gonfiare e quindi si estende dopo di che continuando l'estensione si rompe si rompe la 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 terra e si la manca cioè quella quella famosa delle rupe che parliamo al centro dell'oceano si sono formate in questo modo andiamo veloce ecco vedete qua si vede ancora bene il mamma rompe la crosta poi a mano a mano la larga la spatta ci sono le tipiche farle queste qua le vediamo tutte su quella su quella su quella su quella questo è un altro rapporto invece abbiamo un'altra situazione in cui abbiamo la placca che va sotto un'altra e in corrispondenza a pochi chilometri all'interno ci abbiamo l'annestamento tematico e la formazione di un cane questa è un'altra situazione qua si vede ancora meglio vedete qui abbiamo una faglia di in qualche modo una faglia una faglia dopo una dorsale ma qui abbiamo invece lo scontro la la dislocazione che si chiama la faglia di sostituzione la la zona di sostituzione qui abbiamo sempre la stessa cosa un pochino più tecnica quindi abbiamo l'intosfera che va giù quando si scontrano i contenenti abbiamo una se uno va sotto l'altro e poi quando lo geno si viene ad essere assorbito praticamente si forzano le due le due le spuntano una catena cioè che cosa succede come due macchine che si scontrano si fa il noto si fa il pochino eccolo qua tra l'altro questa catena c'è anche sedimenti marini perché sono i fossili perché questa roba bianca vedete questa cosa bianca qua sono tutti i sedimenti che calcare quella cosa che abbiamo scoprima nel momento in cui viene accorzati l'altro che cosa succede questo maggiore questa parte maggiore quello che rimane qui si forma la catena ecco che vedete la roccia è diversa la bianca con le maniche verticale questo è bellissimo che ancora fa proprio vedere questi movimenti e gli spostamenti fra le dorsali c'è la dorsali non è unica ma viene spezzata a intervallo per colare da queste mani tutte sta roba quattro questa piccola lezione di geologia per consigli che sicuramente forse qualcuno di voi la conosce altrimenti non la conosce ma più o meno si capisce ci sono le regi fanno capire che tutte queste zone qui il rosso dovete dare ragione in quella zona che i visiti i remoni fortissimi e continui parliamo di 10 cm di spostamento quindi poi quando la la tensione della roccia non ce la fa più c'è il botto c'è il terremoto quindi si spezza e c'è il terremoto qui ecco qui abbiamo un'altra visione ecco di come quello che succede su una sorta scusate che dobbiamo andare un po' prima perché l'ho persa questa eccola qui abbiamo la formazione dei vulcani c'è il vulcani che diceva Platone come si conosce cosa sono i vulcani sono fuorussite di lava a partire da un zelvatore matematico e possono riuscire fuori come nel primo caso oppure rimanere dentro c'è la lava non è dentro che esce fuori rimane dentro però se rimane dentro forma delle soggetti calde e forma delle rocce plutoniche intrusive queste rocce si raffreddano lentamente sono a granito mentre se esce fuori la lava si forma scura non granito con tutti quei granitini nel momento in cui noi abbiamo questa formazione differente ci spieghiamo la litologia dell'antica cioè ci spieghiamo la litologia dell'antica che cosa perché una percezione geologica dei primi del novecento per porre il cavo dell'età quando ci fu fatto il cavo tra l'america e l'europa si era rotto questo cavo allora bisognava tirarlo su per ripararlo che cosa è successo? nel momento in cui fecero la riparazione del cavo per tirarlo su la rete e tirarlo su la roccia cioè tirando su questo cavo per la riparazione tirarlo su una pietra questa pietra la trachilibra la trachilibra è una tipica roccia plutonica che viene eruttata in atmosfera e perché se la dovevano trovare a tremila metri profondità una roccia tipica delle eruzioni plutoniche in aria cioè la trachilibra spedito ossidiale parliamo così un'ossidiale l'ossidiale si forma sulla terra terra un metro e un metro latico che si forma quando accade una eruzione in aria e si raffredda talmente velocemente all'aria che è completamente differente da questo tipo perché questo tipo qua forma il granito perché il raffreddamento è lento mentre l'altro caso abbiamo un raffreddamento veloce il raffreddamento veloce l'etera non lo so l'etera i vulcani dell'isola le hawai le olie le strombole ma questo tipo di vulcanese possono essere veloce qui abbiamo un altro come si formano ecco perché si allontana la merita perché le correnti fanno i modi e qui esce diciamo così si formano e allontanano e allontanare la merita dall'asera ad un certo punto vedremo che purtroppo il pacifico diventerà più piccolo e l'ermantico diventerà più grande e si muovono stesse cose tra 30, 40, 50, 50 non ci sarebbe purtroppo ma vedremo questa situazione noi abbiamo un po' un riassunto di quello che abbiamo visto con le vulcani e altre cose abbiamo già spiegato ecco questa è bellissima cioè è bruttissima se arriva una roba del genere però questo è un fenomeno che sulla luna è comune è di casa appena alziamo vediamo la luna c'è un metro quadrato senza che non c'è questa roba qua che è un sasso è un sasso questa roba qua poi vi faccio vedere qua è un meteorite ecco vi faccio vedere altri meteorite vediamo se vediamo qua ecco questa è un meteorite quando cade in mare quello che abbiamo visto sta per arrivare quando cade in mare succede una cosa del genere quella è una scena non è un laglietto ma quella è una scena che cosa succede prima ancora di arrivare sul fondo proprio come delle ombre incredibili ma proprio in questo senso che questa roba qua non è che alta 10 metri 2-3 chilometri no peggio perché un tsunami evitato da un terremoto una cosina piccola che poi arriviamo nella costa 10 metri dopo ma no fanno ridere rispetto a questa roba si parla di chilometri cioè lo spostamento dell'acqua è il chilometri cioè uno a uno che si vede se qua abbiamo un'isola qua dove c'è la freccia non è che si vede 10 metri su una spiaggia buona ma proprio si vede un muro d'acqua di mille metri cioè impossibile salvarsi un'altra persona sulla monta ecco questo è quello che proprio gli scienziati non dovrebbero avere questo è il signore Lecino insomma un pochino di storia questa è una una fotografia a distanza da vicino ad un planatore che ci ho totalmente vicino ad una sonda e ho votato il telescopio e ho votato l'ha potuta fotografare vedete proprio è un corpo raccioso è un pianetino sono lunghi 3-4-5 chilometri 10 chilometri possono essere anche 100 metri le differenze sono enormi fra una d'altra lo chiamano planetopiche lo chiamano pianetini asteroidi 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 quasi una stella ma in termini sbagliati come meteoristi le possiamo chiamare ecco questa è la roba che fanno vedete quella ragazza in bicicletta vedete che razza del buco che fanno quello è mettere in Arizona quando cadono quelle robette in Arizona una fascia quello è un chilometro e due di diametro quindi quella figura vedete vedete qua c'è un altro un altro turista ci hanno messo pure anche la ringhiera per vedere lo spettacolo lo spettacolo e poi vedete c'era la traccia di quello che era il meteorito ci è rimasto qui e vedete quel piccolo non lo so 200 metri quella cosa lì quel 100 metri hanno colocato quel macello lì quel sollevamento di montagna una cosa che vedete vedete questa è ancora più bella perché questa è quella ragazza che era messa qui ecco su questa piazzola qui vedete era messa qui e qua era messa nell'aere vedete come può mettere sulla luce e qui abbiamo la strada per i turisti e poi la piazzola quando mette una macchina perché si vede lo spettacolo vedete quando cade una cosa che c'è sulla terra pica la terra letteralmente la caccia fuori e scava fuori fa una piccola montarozza diciamo al bordo poco poco più alto e poi c'è la caglia e poi non c'è più lì quindi fai quella distruzione lì e poi alti fuori sono le piazzolze che cadono ma che rapporto è che hai la grandezza bravo Dorettissimo questo piccolo questa parte centrale più o meno un circo 120 metri e poi tutta la parte poi 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 perché poi se è roccia o se è ferro oppure una lega di ferro e una lega di 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 che esattamente lo stesso che c'è al centro della terra altamente magnetico ora vedremo perché è magnetico e poi ritorno a quella domanda se mi ricorda la domanda che mi ha fatto prima bravissima e lei mi ha anticipato di 50 depositi benissimo perché quella roba lì che ti aiuta nella fossa Pinares che sarebbe il famoso piano di fronte alla Florida se qualcuno di voi è la Florida non si ricorda dove ecco questo è l'alto meteorite vedete come è il ferro ora se facciamo un po' indietro per vedere più o meno la la fossa di rari ecco 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 la fossa di rari si trova qui allora aspetta vedete qui dove io c'ho esattamente qua molto vicino ad Atlantale quindi la fossa delle carte delle meteorite e ci sono delle tracce anche sulla costa della Florida qui c'è un campo di crateri proprio qui di piccole bughe per terreno che poi sono che piene d'acqua di piccoli laghetti e poi c'è una doppia una doppia fossa qui esattamente dove metto io il famoso ci sono due piccoli grandi crateri che ritornano a 200 km ciascuna è una cosa incredibile 200 km questi due questi due buchi questi due a 7000 metri di profondità rispetto ai 55 del resto quindi un bel buone scuola ecco quei due buchi che qua purtroppo non si vedono bene che ho detto è una carta antica la carta non è fatta a te però per farmi capire è bene esattamente qua e cosa è successo? arrivarono da Odessa perché sono questi due buchi poi purtroppo non devo trovare la depositiva con me hanno una forma di bellisse che sono dirette nord-ovest-supest arrivarono così arrivarono diciamo dal cielo però precedente in questo senso qua così e cantano così che cosa è successo? tutta è stracca la spostranno dritta-dritta su agrani proprio proprio le 20 vene le prime coste furono sicuramente l'Africa tutta aveva loro però proprio il primo impatto fu ma non soltanto il patto solo dell'angolo nel momento in cui cante quella teoride è ferroso di questo tipo ancora velocissime andiamo nell'altra diapositiva ecco ecco questo qui è un piccolo una piccola roccia una piccola parte che sta su una mano ecco se ne trovano parecchie vedete la caratteristica che c'erano queste specie di buchetti quelle si chiamano red maglipti una parola deriva da prego ma non la fate tradurre perché non sono quelle comunque red maglipti vuol dire come le impronte digitali vedete come se uno ci avesse messo il dito quando cade la temperatura alta che si verifica fonne questa roccia e si torna tutte queste steppone queste pochettine ecco queste cose questo è tutto se lo mettete vicino a una caduta te fai il pazzo davanti che cosa è successo quando cade questi due blocchi perché poi dicono i geologi e questo vedo rite proprio prima si spezzò in due quindi caddero due due non possiamo dire che era uno solo l'età pare che sia intorno anno o più al momento intorno a 11.000 12.000 anni manca a farlo a questo manca a farlo cioè quando tutte le cose camminano pare che quella che cadde un po' nella flora si chiama campo di gradere i geologi quando vedono tutti questi punti sulla terra il ricopetto della ghettina il campo di gradere sulla terra senza bisogno dell'assorto l'amore l'età di 12.000 anni che coincide abbiamo fatto come detto 9.000 anni più che dobbiamo mettere quei 2.500 e ci trovano quella stima più o meno ci sono stime che possono sbagliare anche di 5 secoli per carità però insomma rientra in quella entra in quella ecco ecco vedete la mano questo è bello grosso parliamo di ecco quando tu senti così immaginando che ci mette la mano è un vestito di ferro ecco 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 una cosa ma proprio brutta vedete che razza di cose che si faceva una mano di fuoco che arriva lì quindi vedete immaginare che cosa è succeduta quando arriva una cosa da parte è male quello è minimo si provocano vapore in ombre ecco la ragazzina che mi ha detto l'uomo di biancola io l'ho strutturato l'uomo di biancola per quanto è strutturato che però quando arriva una cosa del genere l'acqua è come se voi applicate il ferro rometta l'acqua tutto bolla fuma eccolo ma quello che succede non è soltanto il mare è proprio che arrivando su rompendo la crosta terrestre sotto provoca una un mantello sottostante cioè il mantello la lava che c'è sotto la crosta si riforme cioè dò un pugno e riscaldare la lava che c'è sotto quindi quelle situazioni scarpili quelle situazioni scarpili che c'è nella nella frattura diciamo nella frattura dell'aldossato oceano si sono reattivate un po' cioè quella situazione che già di per sé non era scarpile è successo il ferrimone terremote da paura ma remote non è paura iniziale il festival di vulcani probabilmente il festival di vulcani anche dell'america iniziale 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 del ferro si fu morreva tant'è vero che uno dei periodi dei disastri coincide con quella perché in qualche morale che è una postazione delle leggende che dicono che in quel periodo pioggia oscura una pioggia di di sabbia nera iniziale ma voi vi ricordate quando successe la lettera i baffoni io stavo a fedare la dovevo scopare con la scopa sta con me vi immaginate quel tadozzo di questo ma vi immaginate questo che cosa ha provocato c'è questo qualche legato del mille e qui e qui per la sua gioia vediamo eccolo questa è la zona ora non è che è esattamente un triangolo questo è un triangolo per capire più o meno statisticamente se è morito e che cosa è fatto? dov'è questo triangolo? si trova all'arco delle fosse delle fosse della Florida e a nord dell'isola di Burma ed è formato da Miami l'isola Perpù del Puerto Rico l'indeggio non ci navigate perchè appena ci avete un angustolo la perla invece del mordere la porta su lì completamente sballata perchè? perchè sballata? perchè c'è il ferro non è per una cosa macchina quando arrivo quel meteorite di ferro che vi ho fatto vedere prima tutto ferro e mica la migliore rega oggi per fare i fiori calamite si usa o il ferro insieme ad altri non deve essere buro deve essere un ferro drogato con altri metalli il ferro e mica per il bambino per il bambino per il bambino per il bambino ma parliamo di quelle dimensioni perchè appena anche l'aereo c'è purtroppo questo spiegato anche l'aereo che è montato ma per il bambino c'è la storia di una foto di nove persone di nove pilote esperti che dovevano fare un ben genito una cosa dovevano andare in isoletta qua l'altra di maiele qua e poi tornare con gli soldi sono due o tre ore non si sono trovati più nove pilote dovevano fare semplici condizioni qua c'è un aspetto per l'ora di calcio ancora devo andare perché diceva perché c'è scoperto io ho risolto due problemi in uno io ho risolto perchè questa devo niente non è che l'ho risolto l'ho risolto l'ho risolto e presente qui 8 punti io siccome purtroppo non potevo non c'è avuto tempo ma vi faccio vedere più o meno che cosa diceva lui su quelle disperse la vediamo se lo trovo perchè c'è proprio il disegno e allora che lo sanno perchè ecco vedete ecco vedete questo questo è ecco quel buco nero che rappresenta la fossa di Nars vedete qui calde al grande del più o meno dove ci ho detto io quindi proprio vicinissima allora e allora che relazione eccetera vedete anche questo doveva farla appena arrivò quel mostro libro di quelle meteorite lì provocomo provocomo ecco perché dice la donna nell'arco di un giorno e di un anno cioè i perremoti che sprofondamente avvengono non ci saremmo stupiti che ci siano sprofondamente di isola ma non nel giorno di due giorni tre giorni perché quel tempo velocissimo è quello e i maremoti proprio perché il meteorite ha creativato quel terremoto che cosa scapò per riso si trova al centro di queste zone state a quante punte si trova poi poi però cosa ho detto all'inizio è stato dimostrato è stato dimostrato allora è stato dimostrato la presenza di quel testone sotto il mare che viene fuori dalle perspezioni delle persone cioè quello che abbiamo visto qua è tutto vero cioè poi l'indicuzione può essere che lì è stato sempre sprofondato però vediamo tutto però quella 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 visione proprio delle coincidenze cioè questi gli dovevano dire a un egiziano un sacerdote egizio dice ma quello che fa gli egiziani si fattano le perate fatene a perdere tempo con gli egizi ma l'egiziano cosa faceva a dire oltre a marcia c'è quest'isola poi c'è un altro contenente e ti hanno scoperto l'America quella quell'egiziano lì 3.000 anni fa che raccontava la storia di una storia di 9.000 anni prima di quando lui parlava questo è ancora più assoluto quindi l'Atlante io ho finito ora tengo le domande sempre il triangolo no devo leggere il triangolo il triangolo è più assoluto e dici ma se no parliamo di ritorno a 2.000 di Roma domani in 2008 non so se no ha provocato ha provocato la riattivazione dei vulcani questo è una cosa forse l'ho detto bene nello spirito di voi perché io ho finito adesso eccoci le domande ormai si abbiamo finito in tempo se un abbiamo perso un'unica ecco questa è la teoria che ho comune o me vedete o me vedete io ho evitato di parlare dei due giorni ho detto queste 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 non c'è una due giorni qui si diceva appunto no no a volte mi dicevano a volte mi dicevano ma che faccio ho provato il fenomeno geologico con dei racconti antichi non c'è non voglio perdonare nessun tipo di questo lo può capire un arabo lo può capire un cristiano uno un ebreo non ci sono assolutamente è una cosa perché io vi ho detto all'inizio perché la cultura deve essere deve essere alta perché uno deve riuscire a connettere conoscenze di quali altri qui abbiamo visto conoscenze letterali prego antico geologia geografia chimica delle pietre ci ho messo di tutto ci ho messo di tutto ci ho messo di tutto quindi la nozione la conoscenza di una cosa non è come dire una cosa assistante ma è un mattone insieme a tanti altri mattoni la nostra intelligenza di cemento che collega tutti questi mattoni e si può formare questa cosa allora vediamo se c'è qualche altra domanda ecco se ne vediamo un po' tutte le cose così velocemente poi potete dire questo non è chiaro non lo so se c'è qualche domanda no 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 non sono stato chiaro quindi era circa 2.000 km da si non lo so esattamente comunque ma insieme le altre terre sono su un passo no solamente erano una spesa di acqua allora bella domanda si era solo questa unica terra unico centro allora allora che cosa è successo è successo è successo che cioè come è successo è successo allora l'atrande deve la peggio perché si trova il punto 2 però come giustamente ripete la signora ma ci sono delle terre vicine si si signora all'alto di Cuba hanno trovato proprio a nord nel mare a 800 metri di profondo hanno trovato pochi anni fa una città sotterranea con delle piramiche che addirittura sfidano quelle di eccessi cioè sempre con delle pressioni soniche sono andate troppo non può andare un uomo 800 metri o un sottomarinato molto pericoloso molto costoso hanno però fatto delle sue soniche che sono poco costose e hanno visto la mappa della centrale delle strade con una razza questa roba ecco ma è soltanto grande no anche le coste di Cuba le coste del 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 Golfo del Messico alle Andille di Spagnola hanno subito hanno subito dei danni però non si aiutano profondamente sono dei maremoti sicuramente sono delle indirittime tanto è vero che anche fra quelle popolazioni ci sono state delle leggende sono venute da fuori dall'isola ma hanno detto lì proprio lì sono venute delle quelle 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 la dovrete vedere io sono per tutti una zona di fortificazione e di controllo su altre zone perché la stessa visione che ha la sede, il cesturo, il circondimento, il nascosto, la mente è qualcosa che ti fa capire che ci tenete da fortificare ci stai in lavoro per personalmente perché le dà, però... e vi dà... però nel lingua, come dice, dicono gli studiosi se vengono a me, vengono a me, come quelle zone te senti a dadire io non devo fare una ricetta di buona mercoledì se è vero che i dadire, come dice, ci spugno quelle zone te sono una zona di steppa, per esempio quindi probabilmente la flora, proprio le mediante sono operative da questi spugni di buona dadire molto più semplici cioè semplicemente che prima del deserto non è che arriva subito al deserto immediatamente, ma poco prima la vegetazione comincia a diventare male fatta comincia a diventare, a diventare non posso dire più basso ma non c'è spugno e poi si arriva a lei quindi probabilmente quella città siccome trova la porta che ad esempio ti sa molto probabilmente era la zona dove c'è spugno ma non era questa era già in Atlantica? no, quella è dominio che cosa succede? ci dice che la città di Atlantica aveva dominio sia al di qua che al delante però qualchemente aveva il Marocco la Spagna la Francia la Sardegna da questa parte sia un dominio dei tempi di Marocco che è molto riferimento dei popoli che sono andati potevano essere dei tempi di Marocco che queste mura sono se hanno un'età non si sapeva costruire sicuramente poi invece hanno trovato oltre che la cura a mano hanno trovato una città nel sud della Turchia sevolta da 10 metri nei sedimenti con un'età certificata di 12 mila anni a partire quindi 10 mila più in 2000 dopo Cristo 12 mila a partire certificata con le esame del verbo 12 mila anni quindi la storia inizio prima su questo eccetto e poi si chiamasse Atlantica che poi l'impero se arrivasse fino a Marta o fino alla Spagna o fino questo noi non lo sappiamo esattamente la vernicità del racconto però che 12 mila anni fa esistevano dei monumenti degli uomini capace di ridistrire di fare il Stato questo è sicuro quindi non lo so puntarsi in domini se le distanze con l'isera di Pasqua può avere preferimento di persone emigrate da Atlante che si siano trasferite nell'isola di Pasqua non lo so non lo so non lo so non lo so non ne parla di isole di Pasqua no vabbè di isole di isola al di là da questo contenente non ne parla lui parte dell'isola è prima del problema no no se ha altri emigrati non lo so non lo so si 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 non so che distanza si trova l'isola di Pasqua è circa mi pare una 200.000 non lo so dalle coste del Perù che evidentemente possa però aspetta l'isola di Pasqua si basa no no l'isola di Pasqua si basa di teorie che invece permettono l'immigrazione da parte degli abitanti della Polinesia cioè lì sarebbero venuti dalla Polinesia ma non le scudi e anche quando io le metto non lo so l'isola di Pasqua l'isola di Pasqua l'isola di Pasqua forse è stata perché le persone che ci vivono hanno geneticamente proprio lo stesso genoma dei Polinesiani quindi sono venuti affrontando il mare come dei pazzi perché per affrontare il mare bisogna essere un pazzo non non si può essere avere di 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 vere quasi altrimenti... Grazie.